io no quindi ho deciso di partire verso sud partirò da milano giù verso bologna la val d'orcia roma napoli il cilento reggio calabria catania e finirò a palermo ma chi incontrerò scrittori artisti imprenditori artigiani musicisti enologi e anche gente normale sapete perché lo faccio perché l'italia è bella e io voglio riscoprirla insieme a voi ogni giorno pubblicherò fotografie video e podcast audio e se volete seguirmi mi troverete su facebook instagram youtube telegram e spotify con quale hashtag verso sud ciao ciao